Il 1 novembre 1955, il volo United Airlines 629 stava attraversando i cieli sopra Longmont, Colorado, quando la tragedia colpì in modo devastante. 44 vite innocenti furono perse in un istante, vittime di un atto di pura malvagità orchestrato da un uomo apparentemente spietato, John Jack Gilbert Graham. Nato il 23 gennaio 1932, Graham sarebbe entrato nella storia per gli eventi in Fausti che avrebbero segnato quella fredda giornata autunnare. Il suo piano malvagio era orchestrato con precisione spietata, nascondere una bomba nell'effetto personale di sua madre, Daisy King, e far esplodere l'aereo in volo per riscuotere un cospicuo premio assicurativo. Un gesto di avarizia e disumanità che avrebbe portato alla morte di decine di innocenti, tra cui la sua stessa madre. Graham, apparentemente motivato da un desiderio egoistico di denaro, non esitò a pianificare e attuare l'assassinio di massa più grande nella storia dell'aviazione americana fino a quel momento. Collocando la bomba nella valigia di sua madre, Daisy King, Graham sperava di riscuotere un premio assicurativo di 37.500 dollari, un'enorme somma di denaro all'epoca, equivalente a circa 410.000 dollari nei valori del 2022. Il suo piano malefico si svolse rapidamente. Graham acquistò polizze assicurative per sua madre nel terminal dell'aeroporto poco prima della partenza del volo, cercando così di garantirsi un alibi per l'evento che avrebbe trasformato la sua avidità in una tragedia senza precedenti. Quando il volo United Airlines 629 decollò, nessuno poteva immaginare l'orrore che gli aspettava. La bomba, programmata per esplodere durante il volo, pose fine alla vita di tutti a bordo, senza fare distinzioni tra colpevoli e innocenti. La morte sopraggiunse inaspettatamente ai passeggeri e all'equipaggio, lasciando dietro di sé dolore, disperazione e incredulità. La risposta alle azioni di Graham fu pronta e senza appello. Dopo un'approfondita indagine, le autorità lo arrestarono e processarono per l'omicidio di sua madre e per la morte delle altre 43 persone a bordo del volo. Fu riconosciuto colpevole e condannato a morte. Il destino di Graham fu segnato quando nel gennaio del 1957 fu giustiziato dallo Stato del Colorado. La sua esecuzione servì da monito per il mondo intero, ricordando agli individui le terribili conseguenze che possono derivare dall'avidità e dall'indifferenza verso la vita umana. Il massacro del volo United Airlines 629 rimane una macchia indelebile nella storia dell'aviazione e una testimonianza dolorosa della capacità dell'uomo di compiere atti estremamente crudeli. Tuttavia è anche un monito che richiama la necessità di compassione, empatia e rispetto verso la vita umana affinché tragedie simili possano essere prevenute e non si ripetano mai più.